Solo la Dugout, fino a 10.000 euro di supervalutazione del tuo usato, promozione riservata su numero limitato di vetture presenti in concessionaria e fino a esaurimento scorte, fino a 5.000 euro su classe A e classe B, fino a 10.000 euro su classe B. A due giorni dal voto in Italia continua lo scrutinio, sembra paradossale ma è così e anche per questo la mappa degli eletti è ancora incompleta. Certi di un posto in Parlamento sono i vincenti delle arene uninominali. In Irpinia risultano eletti Ugo Grassi al Senato, Michele Gubitosa e Generoso Marai alla Camera. La pattuglia 5 Stelle è folta anche nel proporzionale dove sono certi di elezione l'uscente Carlo Sibilia e la candidata seconda in lista Maria Pallini. Sicuri del seggio e dunque rieletti alla Camera, anche Cosimo Sibilia, l'unico per Forza Italia, e Umberto del Basso De Caro, unico per il Partito Democratico. Alla Camera c'è da segnare un quinto seggio nel listino. Candidati e partiti si cimentano nei calcoli? Sono solo ipotesi, quelle che circolano e che attribuiscono a Pugliese, Carullo o a un terzo candidato a 5 Stelle il seggio. Da segnalare nel PD Campano l'elezione di Piero De Luca, figlio del governatore, nel proporzionale dopo la sconfitta all'uninominale. Sconfitta nell'uninominale ma eletta nel proporzionale Sandra Leonardo, moglie di Mastella, che entra in Senato. Con lei anche il presidente della Salernitana Lotito, eletto anche dai voti Irpini. A proposito di eletti e di Irpini, da segnalare è la riconferma in Parlamento per Gianfranco Rotondi, eletto in Abruzzo.